La Fusco GF VIP, Lisa Fusco furiosa grida al complotto, mi hanno eliminata per la mia amicizia con Barbara D'Urso. Al portale 361 Magazine ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben comprendere il suo ostioso stato d'animo, secondo la Fusco, sarebbe stata punita ed eliminata dalla casa del grande fratello VIP per la sua amicizia con Barbara D'Urso aggiungendo che Alfonso Signorini ha le sue belle colpe. Doveva difendermi perché sono sempre stata dalla parte degli omosessuali e invece mi ha fatto fuori con le sue affermazioni. I conduttori mi hanno detto, prima di entrare, di preparare le mie nomination. Lisa Fusco vittima di un complotto. La subrettina crede che dietro la sua eliminazione vi sia addirittura un vero complotto ordito da numerose forze oscure. Gli antichi dissapori generatisi l'anno scorso, quando l'ex fidanzata di Andrea Damante ha partecipato alla seconda edizione del GFVIP, sarebbero parte in causa nella sua estromissione. I gestori delle pagine social del fan club di Giulia De Lellis hanno negato ogni loro coinvolgimento nella sua eliminazione al televoto, ma Lisa non cede e continua ad osservare che quel messaggio aereo che ha solcato Cinecittà abbia generato l'ira funesta delle bimbe pronte alla vendetta. Lunedì scorso, appena uscita dalla casa, ha affermato che i responsabili della sua eliminazione sono appunto le bimbe di Giulia De Lellis, mi hanno scritto che si sarebbero vendicate di me facendomi uscire non appena fossi andata in nomination. Lisa Fusco sarà ospite di Silvia Tofanina Verissimo, sabato 6 ottobre, e a domenica live il 7 ottobre, si dice pronta a rilasciare scottanti rivelazioni riguardo la sua eliminazione dalla casa del grande fratello VIP. La sua gretina, inoltre, ha fermato in viperita, mi hanno punito per la mia amicizia con Barbara D'Urso. Mara Veni e mi ha bloccato anche su Instagram. Sono pronta anche all'uscita definitiva dal mondo della tv. Il GF vipera è il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv. Pare difficile credere a questa ultima dichiarazione. Ciao!